Ciao ragazzi, è agosto, le palestre sono in ferie tutte quante, ma continuo a realizzare alcuni tutorial per lasciare qualche spunto anche per le vacanze. Per questo ci troviamo in questo scenario un po' urbano decadente, ma lavoriamo lo stesso. Il movimento che vediamo oggi è l'out reversion, che alcuni chiamano out the French. E' un movimento piuttosto basico, ma con cui tanti, soprattutto all'inizio, si scontrano, per cui oggi vediamo alcuni piccoli dettagli per cercare di migliorare l'esecuzione di questo movimento. Il primo passaggio fondamentale è quello di cercare di effettuare la nostra U, tenendo le gambe nella posizione più aperta possibile, ognuno conosce la propria apertura, cerca di lavorare con la U mantenendo la massima apertura possibile. Lavoriamo un po' di volte con questa U, cercando di tenere la massima apertura possibile e proviamo a fermarci per una frazione di secondo nella posizione verticale con le gambe alla massima apertura. e poi continuiamo il movimento. Quindi facciamo la U, ci fermiamo un attimo nella verticale, senza però chiudere le gambe. Una volta trovato questo equilibrio, quello che dobbiamo cercare di fare è lavorare con la torsione del bacino nella direzione in cui dobbiamo uscire dal movimento, cioè io vado verso sinistra, in questo caso, quindi dovrò ruotare il bacino verso sinistra. Quindi ci fermiamo nella posizione di verticale come abbiamo visto prima e poi ruotiamo il bacino. Un altro dettaglio importante che è quello che aiuta a compiere questa rotazione di bacino è quello di staccare da terra la prima mano che ho appoggiato, quindi nel caso in cui vada verso il lato sinistro, la mia mano sinistra dovrò staccarla da terra, quando sto a testa in giù, cercando di aprire la spalla come se volessi guardare il cielo o il soffitto. Questo perché aprendo in questo modo favorisco la rotazione del bacino. Una delle cose fondamentali nel fare questo movimento è proprio quella di mantenere l'apertura delle gambe massima, ognuno rispetto alla propria apertura, però massima apertura dall'inizio alla fine del movimento, cioè una volta raggiunta la verticale con le gambe aperte, girare il bacino e continuare il movimento per scendere giù senza chiudere le gambe. Questo perché è evidente, dal momento che le gambe pesano più del resto del corpo, se le due gambe si chiudono e si uniscono porteranno il mio peso verso il basso anziché bilanciarsi. Se io chiudo le gambe, succede inevitabilmente qualcosa del genere. Se io invece mantengo aperte le gambe quando ruoto, il peso dell'altra gamba bilancia quello della gamba che sta scendendo. Un modo a volte abbastanza utilizzato per imparare il movimento di Aureversau è quello di partire già in posizione frontale, in maniera tale da costringere il bacino a stare già girato. in questo modo, anziché scendere in Aureversau lateralmente, scendere già girando la spalla e il bacino. In questo modo facciamo però una specie di movimento tipo una ribaltata più o meno. lavorando direttamente in linea, uno, due, guardo già, le spalle già sono proiettate verso il basso e lavoro in questo modo. Questo non è un modo sbagliato di fare il movimento, ma a me piace di meno perché abitua il corpo a lavorare soltanto su questa linea frontale, ma perdiamo la capacità di partire con un movimento normale di AU e lavorare successivamente con la torsione del bacino. Questo perché se io abituo il bacino a torcersi soltanto nel momento in cui deve iniziare la fase discendente del movimento, anziché partire già in linea, posso poi applicare il concetto della Aureversau anche ad altri movimenti. a volte a volte